Grazie a tutti. Abbiamo preparato tutta la documentazione necessaria per la presentazione dell'istanza. Abbiamo preparato la relazione tecnica, tutti gli elaborati necessari per l'inserimento nel portal termico e un riepilogo di tutti quelli che sono stati i bonifici e le fatture relativi all'intervento in oggetto. In ultima analisi abbiamo ottenuto al termine della presentazione della pratica nel termine di circa due mesi un incentivo di circa un milione di euro che ha contribuito a realizzare l'intervento per un importo complessivo di circa 8 milioni. Grazie. 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 Grazie.